ragazzi guardate la meraviglia di questo cagnolino lui è birillo lui ha dieci anni è un anno che in canile ed è stato abbandonato dai suoi dopo nove anni e dentro una casa ecco e birillo è affettuosissimo e dolcissimo piange in continuazione quando ci vede ecco birillo vuole stare sempre così con le zie affettosissimo da morire e piange sempre nel box come fa birillo strilla strilla ma perché non mi venite a prendere a me perché non lo fate chi è la zia marina arrivata ti sei girato alla birillo si trova in provincia di viterbo vi aspettiamo salviamo questo cagnolino è una taglia meglio piccola ok grazie